Prima notizia dal giornale Corriere della Sera. E' morta in Spagna Maria Branias Morera. Con i suoi 117 anni era la persona più anziana del mondo. Fratello Giuseppe, perché? Perché è importante questo? Cosa simboleggia questa notizia? E dunque, adesso quello che mantiene il record, essendo morta Maria Branias, e guarda c'è, mi leggi questa citazione dell'Enciclopedia. The oldest person living now is Tomiko Ituka in Japan. He was born 23rd of May 1908, who is 116 years old and 90 days. As verified in Hiyoko Prefecture, Japan. And Tomiko resides in a nursing home in the city of Ashiya, in Japan. Giappone è famoso per avere tra le persone più vecchie del mondo, perché là onorano gli anziani. Invece nell'Occidente, che l'Occidente è un ritorno alla barbarie, ritorno alla giungla. L'Occidente pensa perché hanno quattro soldi e loro sono superiori. In realtà sono tra i più inferiori del mondo, l'Occidente. Invece in Giappone, in Giappone la onorano le persone. Nella Bibbia diceva, si diceva quando, adesso ti traduco, è scritto nella Bibbia, quando una persona con i capelli bianchi entra nella stanza, voi vi alzerete in piedi per onorare la persona anziana. Tu sei seduto lì, entra uno, dice se uno entra con i capelli bianchi, tu ti alzerai in onore. Oggi invece nel mondo mezzo satanico che viviamo, numero uno all'Occidente, tu puoi essere lì con il piede sul talo, fumare marijuana, entra tuo padre e tu ti metti a ridere. Dice, sai che adesso marijuana è legale? Ma per il Signore è legale anche di andare all'inferno però. Fate pure quello che volete, maltrattate i genitori, maltrattate gli anziani, ma dice Salomone dell'Ecclesiace, sappi o giovane che Dio te ne chiederà conto. Come Gesù ha detto in Matteo 25, arriva il tempo che il Signore dirà, portate qui i talenti e fatemi vedere cosa avete prodotto. E i servi malvagi, indegni, non solo nel rispetto a questi genitori, ma nel rispetto anche a questi figli, perché anche i genitori non rispettano i figli, nel senso che li abortiscono, ancora peggio di un figlio che manca di rispetto al padre. Un genitore che uccide il bambino, davanti a Dio, se non ti penti e cambi, potreste avere tutta l'eternità per essere rimorso. Il giornale dice che la persona più anziana, vivente, adesso che è morta questa donna, Maria Branias, si chiama tuo amico Itoka, nato in Giappone nel maggio del 1908, prima della Prima Guerra Mondiale. Questa qui aveva sei anni quando è scoppiata la Guerra Mondiale. Adesso ha 116 anni e vive in una città che si chiama Ashiya, Oigo, prefettura del Giappone. Dio benedica i giapponesi per come si prendono cura degli anziani. Noi in Occidente, ci sono gli anziani che camminano nelle piazze, per esempio gli anziani, e il gruppo di giovani che bevono, fanno chiasso, si comportano come barbari, è quella la mentalità dell'Occidente. Il Dio dell'Occidente, c'è un demone in Occidente che si chiama divertimento. Divertimento vuol dire divergere dalla mente. Divertimento, divergere dalla mente, cioè le persone che sono vuote nella testa, vuote nel cuore, che non hanno Dio, devono assolutamente divertirsi in continuazione, devono divergere dalla mente in continuazione perché hanno il terrore di pensare. Non devi pensare. Sempre un social, un telefonino, un computer, perché altrimenti il robot potrebbe svegliarsi. Quindi, guarda, andiamo a Matteo 24, c'è una scrittura lì. In quasi tutte le chiese che io ho predicato, tutti erano d'accordo. Siamo nel tempo della fine. Ecco, leggiamo che la scrittura di Matteo 24, 34. Cosa dice Gesù? Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Matteo 24, verso 34. Le chiese che ho predicato, dove c'era gente che studiava la Bibbia, non tutte le chiese, certe chiese dormono la mattina o la sera, ma ci sono chiese dove studiano la Bibbia. Ecco, questi qui dove studiavano la Bibbia, io facevo una domanda perché sempre insegnavo sul tempo della fine. Insegnavo sempre l'Apocalisse, così, no? Ed erano molto, molto, molto attenti e interessatissimi. Perché c'erano chiese che ascoltavano ogni tipo di dottrina, no? Ogni predicatore aveva la sua sparata. Però erano tutte così, leggevano quattro scritture e poi dicono, e poi ci costruivano come volevano. E invece il Signore vuole che noi insegniamo solo dalle scritture, ma inizio e anche terminare con le scritture, cose che i predicatori non fanno. Iniziano con le scritture, molti predicatori, poi predicano le bugie che vogliono e poi le finiscono così con la bugia. O le opinioni. Invece il vero insegnante, spero di essere uno, comincio con le scritture, ma le interpretazioni sono basate su altre scritture. E' qui che casca l'asino. E' qui che i falsi profeti fanno finta di non così, no? Allora, qui Gesù dice, questa generazione non passerà prima che tutto sia avvenuto. Allora, il tempo della fine, tutte le chiese che io chiedevo, siamo nel tempo della fine? Dicevano sì. Ok, però una cosa che molti non pensano, molti non fanno presente, che il tempo della fine Gesù lo raccolte in una generazione. Dice, il tempo della fine, sta dicendo Gesù, Matteo 24, 34, e dura una generazione, ha una durata, ha un inizio e una fine, non sappiamo l'inizio. E' quello che vogliamo capire, quando inizia e quando finisce? Sì, Gesù espressamente non ce l'ha detto. Io ho fatto delle ipotesi, ho dato delle opinioni, e dicevo, ho detto, se l'anticristo venisse fuori adesso il 2024, l'anticristo. Allora parte di sette anni, va bene, quindi nel 24 e 7 andiamo al 31. Sì. Ecco, quindi Gesù torna al 31. Ho detto questo in passato, siamo al 2020, dicevo, se l'anticristo sorge al 2020, Gesù torna al 2027. Però ho sempre messo il condizionale, eccetera. Non sto dicendo che Gesù tornerà nel 2031, sto solo dicendo, cerchiamo di capirci quando diciamo opinioni, quando facciamo così dalle asserzioni, e quando dice così dice il Signore, questo dice Dio. Quale sarebbe il modo giusto di calcolare l'ultima generazione, quando è iniziata? Ma guarda, quanto è lunga una generazione? La donna è morte o è 117? Adesso l'uomo più vecchio è un uomo in Giappone che ha 116 anni. Quindi se vuoi usare questa cifra per avere un'idea, non per dogmatico, non è 116, è circa 110, 120, non si sa, però siamo lì, no? Sì. Se vogliamo usare questa cifra come orientamento, allora una generazione è circa 110, 120 anni, circa. Ecco, quindi tutte le chiese che studiano la Bibbia, che non sono tante ma ci sono, sono tutte d'accordo. Sì, siamo nel tempo della fine. E io gli dicevo, d'accordo, leggiamo adesso Matteo 24, 34, Gesù dice quanto dura il tempo della fine? Una generazione. E allora io dicevo e dico, tutto sta adesso dov'è che la facciamo cominciare, quest'ultima generazione? E le opinioni cambiano, perché Mosè ha detto, in Salmo 90, ha detto una generazione, sono 70 anni, quelli che campano più a lungo sono 80, ha detto Mosè. Va bene, però attenzione, adesso la vita è prolungata, la vita è prolungata, adesso la gente campa più a lungo, quindi una generazione adesso può essere, teoricamente, anche a 116 anni, poi uno ha la sua opinione. Quando comincia non si sa. Allora, se vogliamo usare, per esempio, come alcuni fanno, la fondazione di Israele nel 1948, fino al 2024 ho calcolato su 76 anni. Quindi in qualsiasi modo calcoliamo ci siamo. Però Gesù ha detto, Matteo 24,6, voi udrete parlare di guerre, rumori di guerre, guardatevi di non turbarvi, perché infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Quindi quando sentite parlare di guerre, però è l'ultima generazione che Gesù sta parlando. Matteo 24,6, Gesù sta rispondendo alla domanda dei discepoli, quando è che sarà la fine dell'età presente, quando ritorni a ristabilire Israele. E noi sappiamo che parlava dell'Israele cristiana. Però, allora, abbiamo detto 76 anni dalla fondazione di Israele nel 1948, però se vogliamo considerare, come Gesù dice, le guerre, in quel caso considerando la prima guerra mondiale, cioè dal 1914, al 2024 ho guardato, sono, ho visto qua, 110 anni. E tu sei più predisposto a includere le due guerre o a iniziare l'ultima generazione dalla fondazione di Israele? Ma io non spingerei niente, perché le opinioni sono come le cocuzze, no? Forse i carciofi. Cioè, dipende, no, non voglio profetizzare niente, ma neanche voglio dire un'opinione, che ho capito. E che a volte io mi sono anche sbagliato con le opinioni, dove non sbaglio mai sono quando uso le scritture, lì non sbaglio mai. Quindi, in ogni caso, se includiamo le guerre mondiali, che sono stati grandi, è un po' strano non includerle nell'ultima generazione. Se le includiamo ci sarebbe... 110 anni. 110 anni. Ad oggi, 2024. Quindi è chiaro che la generazione, l'ultima generazione, non può durare molto. No. Fra poco finirà. Parlavo con un mio parente e mi dice, ma, insomma, Gesù può tornare che fra 500 anni. Eh sì, sì. Godiamoci la vita. Sì, sì, sì. Benvenuti a Sodoma. La giostra gira. Compro il biglietto. E invece, se calcoliamo dalla fondazione di Israele, sono passati 76 anni. Anche in questo caso siamo molto vicini alla fine dell'ultima generazione. Insomma, che comincia... In ogni caso. Sì, che comincia da Israele, che comincia dalla prima guerra mondiale. Insomma, siamo lì. Allacciare le cinture. Ci siamo. Sì, incredibile, perché questo è come un segnale d'alarme. Attenzione, attenzione, non rimane molto tempo. Gloria a Dio. Quanto non sappiamo, ma attenzione. E allora auguri a questa cara persona, che si chiama tuo amico Itoka, in Giappone. Sì. Tanti auguri. C'ha 116 anni. E vediamo cosa succede. Però, attenzione, stiamo in preghiera. Amen. Angela, ti do il microfono. Sì, andiamo allora al prossimo. Andiamo in Gran Bretagna. Sì, andiamo in Gran Bretagna. Sì, andiamo in Gran Bretagna.